buongiorno a tutti amici questa volta l'impresa è ardua ragazzi dovrò pubblicizzare, un attimo ve lo faccio vedere dovrò pubblicizzare dello scotch questa volta l'impresa è un po' più ardua ma ci riusciremo comunque queste sono le tre tipologie di scotch e adesso andiamo a realizzare un bel video promo un po' di animazione e poi faccio un po' di riprese iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale